Buongiorno, ritrovati da Famiglia Casa. Spiego un attimo ai nostri telespettatori cos'è questo telegiornale. Spiego i fatti che vengono qua, messi nella nostra famiglia. Come per esempio oggi un atto di vandalità, da vandalismo, da mia sorella nei miei confronti. Adesso chiediamo Antonio, ci sei? Ok, adesso il nostro inviato vi farà vedere un video e mi raccomando ai bambini sotto ai 16 anni, per favore, non fatele vedere, sono scene capriccianti. Mi fanno ancora piangere. Signori, qua è avvenuta la scena. L'ho visto anch'io, il povero Gabriele che veniva obbligato dalla sua sorella. Malvagio. Valeria. Come potete vedere, c'è, questa è la scena del crimine, il povero Gabriele era seduto qua, ed è stato costretto ad andare in bagno, in allo studio. Allora, il problema di... Gabriele. Si, si va a leer. Si. Si, cosa c'è? Va in bagno. Ma, 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 veramente. Va in bagno! Non, ma, 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 ma. Non, ma, 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 ma. Anche i vicini hanno udito qualcosa, hanno sentito qualcosa. diamo la parola ad alberto buongiorno paola e sembra che anche dei vicini qua in casa con il ghiardo iacolo abbiano sentito qualcosa vediamo cosa dicono buongiorno buongiorno signora stavo cucinando le orecchiette al sugo però dai venite penso che siete qui per che vogliono parlare di quello che ho visto ieri dite dite e lei è stato lei lei quello che ha registrato con il cellulare sì sì allora anche adesso mi vanno i baffi in bocca allora stavo ammettendo la spesa in mia casa però sentite delle urbe e sentiva oh capito ma in bagno delle frustate così allora mi sono avvicinato e c'era la porta aperta non so ma chi è di santo e allora mi sono avvicinato e allora mi sono avvicinato visto gabriele stessa terra mi sono messo adorare è vero è vero è vero anche io l'ho visto l'ho visto poveretto era tutto da per terra il braccio tutto spezzato e poi c'era anche i baffi tutti spostati e gli occhiali messi così di traverso una scena veramente impressionante io non toccherei mai luigi luigi con un dito ma useresti un bel bastone vero bene bene basta lasciamo la linea a allo studio abbiamo terminato oggi la nostra giornale famiglia mi auguro una buona serata e ricordo agli aspettatori che stasera c'è shrek terzo e family man buona serata a tutti che stasera c'è